Ciao Davide, eccoci di nuovo. Ciao Cri, eccoci qua. Tutto bene? Todo bien, carichissimo per questo argomento che mi piace veramente tanto. Ah, ok. Il rifiuto distorce la realtà, ok? Lo diciamo subito, così partiamo e via. La situazione è questa, in sostanza. Un uomo viene rifiutato e a causa di questo feedback negativo, o rigetto, o comunque mancato apprezzamento del suo gesto e della sua persona, inizia a dare un valore sproporzionato a quella stessa persona lì che l'ha rigettato, ok? Tu come la vedi questa situazione qua? Io vedo proprio questa situazione qua, dove c'è una persona che proprio si prende tantissimo dell'altra persona. Questo è un discorso che vale sia per gli uomini sia per le donne, e mi piace specificarlo perché è proprio, diciamo, un dolore universale, umano, che provano tutti e che chiaramente sono certo che tutti quanti prima o poi ci sono in qualche modo entrati almeno una volta nella loro vita, se hanno avuto dei rapporti con delle donne ovviamente, o con uomini, in caso delle donne. Ci innamoriamo, ci prendiamo tantissimo di questa persona. All'inizio sembra che vada tutto quanto bene, ad un certo punto questa persona ci dice, guarda, mi piace questo, 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 questo e quest'altro di te, ma ci sono anche questa, questa, questa e questa ragione che mi fanno pensare che non può nascere nulla tra noi. Quindi mi spiace ma non è cosa. quando accade questa situazione qua, se per me questa persona piaceva 200, questa persona per me piacerà 4 miliardi. Perché? Perché è un po' come, Lessi, questa metafora, non mi ricordo in quale libro, che proprio mi ha proprio illuminato al 100% di fronte a questa situazione qua. Immaginiamo tutti quanti di avere, cioè di ricevere in dono due, che ne so, un milione di caramelle. Il valore che diamo a queste caramelle sarà, non so, di uno, di due, perché ne abbiamo veramente tante. Non è che stiamo a dargli un valore chissà quanto importante. Proviamo invece a dare a queste caramelle un valore più alto ricevendone solamente due. È ovvio che vendone solamente due, cavolo, il valore di queste caramelle comincia ad aumentare, perché, no? Ce ne è talmente poche. Qua stiamo entrando pian piano, per chi l'ha già capito, nella questione della scarsità, perché alla fine è tutto lì. Proviamo invece a riceverne 20 e poi nel mentre ne abbiamo ricevute 20, diciamo, guarda, ho sbagliato, in realtà dovevo dartene due, scusami, e gliele portiamo via. Cioè, il valore di quelle due caramelle che ci rimangono non sarà più come prima di mille, ma sarà il quadruplo. Perché noi in quell'esperienza abbiamo vissuto un qualcosa che è praticamente quello che innamore, quello che negli affetti noi chiamiamo rifiuto. Il fatto di provare, cioè pensare di riuscire ad arrivare all'obiettivo e poi cadere, sprofondare immediatamente senza preavviso, senza, in qualche modo, essere preparati a livello emotivo. Questa cosa qua, che potrebbe addirittura essere utilizzata come tecnica per far innamorare ancora di più la persona con cui noi vogliamo, in qualche modo, avere una relazione o qualcosa di serio, anche se sfido chiunque a rifiutare una persona che, insomma, vogliamo a tutti i costi e che desideriamo tantissimo, è impossibile. Non riusciremo mai, a livello logico, a rifiutare è una persona che a noi ci piace tantissimo, però fa proprio in modo che questa persona viva un'esperienza tale da far percepire l'altra persona come una persona inarrivabile e che vogliamo a livello proprio ossessivo. Ossessivo. Ci sono persone veramente che vanno a glorificare questa ragazza che ho in consulenza perché in qualche modo hanno vissuto questa condizione, nella condizione proprio di essere rifiutati, raccontando proprio questa storia. All'inizio sembrava molto interessata, comunque mi cercava, mi mandava i messaggi qua e di là e di su e di giù, e poi a un certo punto si è freddata di coppia e mi ha detto che non poteva nascere nulla. E quindi voglio da tutti i costi riconquistarla. La verità è che non l'hai mai conquistata al cento per cento questa persona qua. Quindi non si può parlare di una riconquista, si parla proprio di una condizione tale da essere innanzitutto analizzata precisamente per capire se questa persona qua stesse sentendo anche altri uomini, se questa persona qua non era proprio interessata dall'inizio perché emotivamente non era libera, perché magari si era lasciata da poco da una relazione molto importante. Ci sono tante situazioni differenti, ok? Quindi è comunque da valutare, non si può parlare di una riconquista. Tante persone vedono questa cosa come una riconquista. In realtà tu non l'hai mai conquistato questa ragazza, è qui il pallino. E perché tante persone ci cascano? E come soprattutto riuscire in qualche modo a risollevarsi a livello emotivo? Innanzitutto nel momento in cui noi conosciamo questa dinamica, quindi siamo coscienti di quello che accade in psicologia, ok? Perché è vero. Cioè il detto che gira, che in amore scappa chi fugge. Cioè è vero per certi versi. In questa condizione qua è stravero. Perché se in qualche modo sembra che entrambi ci piacciamo e poi uno si allontana di netto senza dare ulteriori spiegazioni, gli uomini poi sono i numeri uno nel volere a tutti i costi capire il perché. Non c'è da capire il perché. C'è semplicemente se vogliamo star bene la condizione di accettare quello che è appena successo, di razionalizzare il perché potrebbe essere successo e di vedere chiaramente la situazione per quella che è. Una persona che semplicemente ci ha detto di no, non una persona inarrivabile che dobbiamo ottenere a tutti i costi. E se invece vogliamo ottenerla a tutti i costi, la primissima cosa da fare e su cui lavorare è la nostra autostima, è la nostra situazione di scarsità. Perché le persone si ossessionano ad un'altra persona in proporzione diretta con quelle che sono le occasioni che noi abbiamo. Perché se noi potremmo scegliere tra 100 caramelle e ce ne tolgono 20, capisci che ce ne rimangono altre 80 e quindi non possiamo viverla così tanto male. Guarda, secondo me il fatto che una persona rifiutata dia moltissimo valore a quest'altra persona è dovuto allo scarso bacino di conoscenze che ha a disposizione. Perché se io avessi l'opportunità di conoscere per un mese ogni giorno una ragazza diversa, quindi 30 ragazze, quel rifiuto lo peserei molto di meno. Il valore che do con la persona è molto più basso. Perché so crearmi delle opportunità. il problema qui qual è? Che i ragazzi non sanno creare opportunità di conoscenza, non sanno conoscere una ragazza al vivo, non sanno scrivere da una ragazza in chat. Quindi il problema è proprio questo, la mancanza di un metodo che quindi poi quando hai una situazione e vieni rifiutato, minchia quella situazione era oro colato. Perché era l'unica che avevi. Esatto, esatto. Quindi sì questo, cioè il fatto proprio di riuscire in qualche modo a lavorare su se stessi, sulla nostra autostima e soprattutto sulle nostre skills. Perché nel momento in cui noi sappiamo e siamo in grado di conoscere persone quando vogliamo, in qualsiasi momento della nostra vita, non nego che comunque si sta male in queste situazioni perché ovviamente andiamo ad unicizzare questa ragazza e per noi è veramente molto importante, ma ci riprendiamo molto molto più alla svelta e non siamo legati ad una situazione irrisolvibile per anni. Grazie Davide, direi che abbiamo detto tutto e ti ringrazio per aver portato a questo topic. Ciao, ciao a voi, grazie a tutti.